Alle 12, via e da noi, una parchetta si allungano con il marito. Una parchetta si allungano con il marito. Dopo il Covid è tornato il Carnevale in piazza a Vico nel Lazio, una giornata di festa e spenseratezza che i ragazzi del gruppo, i Cantastori di Vico, hanno voluto regalare soprattutto i più piccoli con una iniziativa che era attesa da anni nel paesino sui Montiernici. Una festa che si è sviluppata con due momenti fondamentali, quello dei carri allegorici e poi la festa vera e propria in piazza 24 maggio. I carri, tre per l'esattezza, sono partiti dal bivio di Pitocco, porta a viera e propria del paese e si sono snodati per le vie del centro fino a raggiungere la piazza. Lì, ad attenderli, c'erano i bimbi con i loro genitori e non solo. Tante mascherine e tanta gioia per l'evento che è tornato a donare sorrisi e spenseratezza insieme alle immancabili bontà del periodo. Sono state infatti le mamme, le nonne e le bimbi a preparare le frappe e le castagnole che hanno reso ancora più dolce la festa. La giornata si è conclusa con il falò del fantoccio di Carnevale che idealmente ha chiuso i festeggiamenti in una giornata in cui si sono divertiti tutti, ma proprio tutti, compreso questo maialino, vera e propria attrazione della domenica.